dobbiamo fare un annuncio anche dal centro perché già siamo pronti con le nuove ma come come giambrone o come personaggio? non si capisce più niente allora nella city com giuseppe giambrone e luisa luisa l'italiano lo alza io sono me stessa cioè giussi randazzo quindi mi chiamo quindi mi chiamo luisa e randazzo giussi lo alza quindi noi siamo pronti per partire con questa nuova edizione della city com quest'anno ci saranno tante novità voi ci vedrete in qualsiasi schermo, qualsiasi mutanda ora ci sono gli altri attori vieni qua signor melodia che bello che bello e cos'altro se ne chiude nelle migliori televisioni dal gennaio 10 sono le televisioni pronto sono uno dei rapitori ci passo la sua sigla domani io voglio a luisa allora diciamo la gennaio è una delle migliori televisioni imminente imminente, 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 maldia però che passa sono me cacò, cacò proprio non lo com'è chi fa però è il tempo di poi ciao 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 ciao